La Guardia di Finanza ha eseguito 11 arresti a Roma, a finire nel mirino delle fiamme gialle alcuni imprenditori, dirigenti e funzionari pubblici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Sono inoltre stati sequestrati beni per oltre 22 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di corruzione per atti contrari e doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente. Per le stesse ipotesi di reato sono indagate nel complesso 37 persone, tra cui 13 dirigenti e funzionari pubblici. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dirigenti e funzionari del Ministero delle Politiche Agricole c'è anche Giuseppe Ambrosio, ex capo di gabinetto dei ministri Luca Zaia e Giancarlo Galan. Ambrosio è l'attuale capo della segreteria del sottosegretario Franco Braga.